ciao eccomi qui in aeroporto tanto per cambiare in un posto nuovo sono qui a riga sto tornando a casa e ho vissuto veramente dei giorni molto molto belli e molte persone quando si trovano a tornare da un'esperienza magica da una esperienza potente da un'esperienza bella trasformativa sono in una fase di down perché si tratta di passare dalla dall'esperienza alla pratica questo è un momento veramente importante perché nel momento in cui tu passi dalla dall'esperienza da ciò che ha imparato alla pratica molto spesso ti trovi a rinunciare si trovi a mettere da parte quello che hai imparato e cominci a dire ma magari lo farò dopo lo farò un giorno lo farò lunedì una cosa molto molto comune questa del lunedì dalle diete in poi ok ebbene quello che ti suggerisco come ti ho già detto tante volte di iniziare subito quando tu hai fatto un'esperienza avevi appreso qualcosa a trasformare a portare una piccola trasformazione nella tua vita per poter così giungere a nuovi risultati e vedere in pratica quello che questa esperienza che tu hai vissuto senti la voce dell'aeroporto quello che tu hai vissuto ti porta qualcosa di nuovo qualcosa di diverso avvicino il telefono perché altrimenti non mi senti più quindi quando tu torni nella tua vita quello che è importante che tu faccia che cominci a mettere in pratica immediatamente quello che tu hai imparato e permetti alla tua vita di trasformarsi di trasformarsi e di giungere ad un ad un nuovo punto perché comunque nel momento in cui tu poni dei cambiamenti nella tua esistenza nei tuoi comportamenti in quello che fai nelle tue abitudini la tua vita si trasforma anche se i cambiamenti magari possono sembrare piccoli ok quindi inizia subito quando hai imparato qualcosa di nuovo adesso mi avvicino di lato perché questo ti permetterà veramente di fare la differenza quindi al posto che andare in down metti tutta l'energia che hai ti faccio venire un po di mal di mare metti tutta l'energia che hai e impegnati a trasformare tutto quello che tu hai imparato in qualcosa di reale ok e questo ti permetterà di tirare subito sull'energia e al posto di sentirti giù magari perché torni da un viaggio perché torni da una bella esperienza comincerai a sentirti molto molto bene ok allora un abbraccio forte e a prestissimo ciao grazie